Signore e signori, grande novità vi attende. Anche noi ci siamo vendute da un manager per far più iscritti possibile e guadagnare di conseguenza tanti big money. Ma noi siamo avidi e tutto ciò non ci basta. Infatti da domani troverete in edicola l'album di figurine di Pokémon Scarce Edition. Avete capito bene, l'album di figurine. Perché sì, anche noi vogliamo cavalcare l'onda del successo e farci sprevere fino all'ultimo dal nostro manager come un altro allegro ragazzo di YouTube Italia. I pacchetti dell'album di Favij costano un euro? Bene, noi ve li facciamo pagare 99 centesimi. Ma è perché un centesimo non fa la differenza. Bitch please, invece sì, la matematica è dalla nostra parte, in quanto 99 centesimi sono meno di un euro. Nei pacchetti dell'album di Favij si trovano 4 figurine? Nei nostri se ne trovano 5 ad un prezzo ridotto. Oh, ma non finisce qui, sacchi di escreventi. Come ben sapete, la figurina d'ora dell'album di Favij permette a chiunque la trovi di incontrare il suo idolo. Che stronzata. Se trovi la figurina d'oro del nostro album... ...triverà a casa una fornitura di Cianni per un anno. Avete capito? Per un anno. Weed and bitches! Perché i Cianni sono meglio di Favij e quindi noi siamo meglio di Favij. E ve lo dimostreremo anche subito. Tempo di equilibrare i sistemi di numerazione. E ve lo dimostreremo anche subito. E ve lo dimostreremo... In un anno. E ve lo dimostreremo... E ve lo dimostreremo anche subito. E ve lo dimostreremo più a tutte per un anno. E ve lo dimostreremo. Grazie a tutti.